L'estate senza caldo, ora un inverno senza freddo. Molti commercianti stanno vivendo grandi difficoltà per le vendite che non sono andate benissimo. E come ogni anno le aspettative sono ora riposte nel Natale. Ma le previsioni non dicono nulla di buono. Secondo il Codacons Umbria, sui consumi natalizi il futuro non è roseo. Prosegue infatti la tendenza delle famiglie a contrarre gli acquisti e la riduzione della spesa per beni e servizi classici del Natale, come i regali, gli addobbi per la casa, i viaggi, la ristorazione, e si aggirerà quest'anno la riduzione attorno al meno 5% rispetto al 2013. Così il Codacons lancia anche in Umbria la proposta di istituire il Black Friday in stile americano, per risollevare le sorti del commercio locale e sostenere le famiglie alle prese con gli acquisti natalizi. Per aiutare i piccoli negozi sempre più in difficoltà e permettere alle famiglie di fare qualche acquisto in più, propongono di istituire anche nel cuore verde d'Italia il Black Friday, già adottato con successo negli Stati Uniti, ossia sconti straordinari nei negozi tutti i venerdì del mese fino a Natale, come forma di incentivo ai consumi al commercio. Un'idea che Codacons presenterà domani a livello nazionale, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso lo stadio di Domiziano a Roma, incontro che potrà essere seguito in diretta attraverso il Codacons TV.